io sono fatto e ubriaco e tu sei sempre a parta di a ma non ho scuato, ho fatto si, che sopporto faccio anche una c***a che è stiamo a buttare a questo mondo stiamo a guardare che siete a voi siamo testi di aca non sei che ci manca a partire vada che ci dice una cosa che dice vada la gente, vada la gente è presente le cose, è il segno di cosa che insegno perchè tu devi insegnare in internet no, è ora tardi ah tardi si perchè in Italia poi è che ti chiede la libertà di cacere e il parco di aca adesso vada in modo praticale stiamo parlando di rompe i gioioni di aca ma vada a c***are imbecili dove siamo non vedi che te che siete si vitte che hai vissuto non devi capire un c***o della vita non devi capire un c***o non devi capire un c***o se parlo contivo non devi capire niente se ti dà volentati ma vada a c***are di aforco raccoglite imbecili di un c***o di aia spartanio che disgraccia mia dipende solo ai c***i come ti e mi disgraccia mia cretino dovrete a c***o 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 c***o